con il quale non devi andare a contrasto fisico, è un attaccante che devi cercare di anticipare o comunque leggere quelle che possono essere le sue intenzioni perché se vai nello spalla a spalla quasi sempre lo perdi ed eccolo qui l'applauso spontaneo del pubblico di San Siro al minuto 24 per Kobe Bryant e al minuto 24 attacca ancora il Milan, lo fa con Buonaventura Teo Hernandez, Piontek allarga destra per Castiglieco arriva nella sovrappolizione Conti, Castiglieco è la sinistro, Sirico in calcio d'angolo ci ha provato Samu Castiglieco il quale giustamente è andato all'interno per poter calciare con il pancino e quando hai un atteggiamento del genere devi dire o forte sul primo palo o a giro sul secondo ma la possibilità di arrivare al tiro gliela ha dato Conti Conti con la sovrapposizione, gli ha portato via l'uomo, gli ha permesso di prendere quel metro di vantaggio che poi l'ha portato al tiro ed ecco qui lo striscione di San Siro per Kobe Bryant e per la figlia Gianni con la sovrapposizione